Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo i 5 migliori scarponi da trekking inventativo facile alpinismo di questo 2023 ovvero con gli scarponi da alta montagna che presentano una suola rigida semirigida che possono essere anche ramponati ma partiamo subito col video e vediamo quali sono il primo modello di cui parliamo sono i Kylan Stellar GTX scarpone semirigido, scarpone con il suola Vibram Stellar appositamente disegnata da Vibram per questi scarponi hanno un'allacciatura che a me era piaciuta tantissimo con la loro allacciatura Ankle Lock System praticamente sono gli scarponi che più si avvolgono attorno al nostro piede ma in generale anche con tutta la parte di allacciatura sono gli scarponi che una volta indossati ci danno veramente la miglior fasciatura attorno al nostro piede per intenderci sono quelli che più si avvicinano ad avere una scalzatura simile a una scarpetta d'arrampicata infatti questi scarponi ve li consiglio tantissimo se dovete andare a fare vie dove ci sono anche gradi d'arrampicata abbastanza importanti dove diciamo che l'alpinismo diventa quasi più un'arrampicata in quel caso davvero questi penso siano i migliori che potete scegliere per quanto riguarda il trekking comunque sono semi rigidi quindi non sono neanche troppo duri quindi ci si riesce a fare dei trekking anche impegnativi su ghaioni, sfasciume eccetera per quanto riguarda invece il montaggio del rampone è come vi dicevo semi rigido il rampone possiamo montarlo però diciamo non è forse il suo must non è proprio il suo ambito di utilizzo ideale in quel caso è stato meglio una sola rigida che vediamo su altri scarponi però davvero questi Kylan Stellar sono i migliori se dovete andare a fare vie di roccia se dovete andare a fare vie mezza d'arrampicata arriviamo al secondo modello ovvero il Saleva Rapace GTX in questo caso troviamo una suola Vibram modello VTC appositamente studiata per questi Saleva Rapace un'intersuola che è semi rigido rigido non è propriamente rigido lavora comunque bene col rampone nel caso in cui dovessimo andare a camminare su ghiaccio però diciamo che in caso di roccia vi sconsiglio di fare quelle vie in cui abbiamo da dover utilizzare il rampone su roccia se proprio dobbiamo utilizzarlo su roccia meglio andare su vie un pochino più d'arrampicata in cui andiamo d'appoggio e utilizziamo la climbing zone della suola non esiste la versione in sintetica esiste solamente la versione con la pelle Nubuk per questi Rapace ed è una pelle Nubuk anche abbastanza spessa se ricordo male siamo attorno agli 1.6-1.7 mm quindi comunque uno scarpone anche abbastanza caldo come vi dicevo questi scarponi secondo me vanno bene per il trekking impegnativo quindi tutta la parte di ghiaioni, tutta la parte di sfasciume che possiamo trovare ad alta quota e anche per tutta quella parte di camminata su ghiacciaio andando oltre i 3.500-4.000 metri per intenderci se volete andare a fare un classico 4.000 dove avete magari tutta la parte di sfasciume per avvicinarsi al ghiacciaio e poi una camminata su ghiacciaio questi veramente possono andare molto molto bene terzo modello, gli Scarpa Ribelle abbiamo in questo caso due modelli la versione light in tomaia sintetica la versione HD con tomaia in pelle una pelle abbastanza spessa anche in questo caso uno scarpone un pochino caldo e la particolarità di questo scarpone rispetto a tutti gli altri è che troviamo una membrana H-Dry invece di una membrana Goretex membrana H-Dry che non fa inzuppare lo scarpone infatti questo qua è perfetto per fare tutte quelle vie in cui davvero passiamo tante 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 ore con i piedi sul ghiaccio o sprofondando un po' anche all'interno della neve scarpone che ha una suola rigida quindi in questo caso il rampone riusciamo a montarlo veramente molto molto bene e lavora anche molto bene il mio consiglio in questo caso è di prendere il Ribelle di Scarpa se state cercando uno scarpone col fare proprio della roba tecnica cioè proprio se state cercando uno scarpone col cui fare camminata su ghiacciaio sicuro ma anche delle vie tecniche quindi delle vie in cui abbiamo bisogno di molta rigidità sotto il piede delle vie in cui lavoriamo molto con le punte dei ramponi in questo caso veramente i Ribelle sono il must potete utilizzarli anche per fare del trekking ma secondo me non è proprio il loro ambito migliore perché con una suola così rigida stancano abbastanza il piede quarto modello di cui vi parlo questi Garmont Ascent GTX anche loro con suola Vibram anche loro con fodera in Goretex non troviamo una versione con tomaia sintetica ma solo versione in pelle ed è una pelle abbastanza spessa siamo quasi attorno ai 2 mm personalmente penso che questi Ascent siano i più caldi tra i 5 davvero li ho provati e hanno veramente un'ottima capacità termica questi scarponi hanno una suola semi rigida anche se è più tendente al rigido diciamo un po' una via di mezzo e il rampone lavora molto molto bene la cosa che mi piace di più di questi scarponi è che hanno una bella zona dell'avampiede e davvero si riesce a camminare senza avere il piede costretto all'interno dello scarpone personalmente ritengo che questi Ascent siano i migliori per andare a fare 4.000 classici cioè proprio 4.000 classici estivi soprattutto se soffrite anche un po' il freddo per intenderci quelle escursioni che si parte magari dal paese si fa la funivia e in 4.48 si è già su ghiacciaio quindi anche con poche parti di roccia in questo caso questi sono veramente l'ideale perché camminata su ghiacciaio penso siano i migliori sia per la termicità come vi dicevo ma soprattutto anche per il comfort che si ha all'interno di questo scarpone infine quinto e ultimo scarpone gli equilibrium di La Sportiva in questo caso troviamo la versione ST con tomaia sintetica versione LT con tomaia in pelle questi scarponi di La Sportiva hanno una suola molto particolare un tallone molto particolare un tallone chiamato double heel dalla Sportiva e questi sono a mio parere quelli con la miglior camminabilità per intenderci cosa vuol dire che se dobbiamo camminare tante tante ore senza rampone questi veramente sono l'ideale sono semi rigidi quindi comunque hanno una buona flessione hanno una forma rocker molto accentuata per favorire la rullata ma soprattutto col tallone tagliato davvero quando appoggiamo il tallone riusciremo a camminare avendo una camminata quasi normale infatti per cosa vi consiglio questo equilibrium? per quelle escursioni anche via alpinistiche dove dovete camminare tante tante ore dove magari non avete una funivia da prendere quindi magari tutto l'avvicinamento anche al rifugio o al ghiacciaio lo dovete fare camminando quindi viene in mente per esempio un gran paradiso dove dobbiamo farci le nostre tre ore per arrivare al rifugio e poi da lì si parte su ghiacciaio in questo caso ovvero questi sono i migliori vanno molto bene anche per alte vie tecniche anche per tutte quelle escursioni ad alta quota dove abbiamo tutta la parte di roccia, sfasciume, ghiaione quindi veramente questi sono quelli che se dovete utilizzarli per tante tante ore camminare per tante tante ore vi stancano molto meno il piede detto ciò ragazzi questa è la mia top 5 per scarponi da trekking impegnativo e alpinismo per questo 2023 sono curioso di sapere da voi con quali scarponi state facendo questo tipo di attività o quali scarponi vorrete acquistare mi raccomando fatemelo sapere qua sotto nei commenti così vediamo anche voi cosa utilizzate e cosa ne pensate di questi scarponi detto ciò io ho una speranza di avervi aiutato a scegliere il vostro prossimo scarpone vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao